Laboratori gratuiti per le scolaresche, attività teatrali e di danza, seminari, spazi di ascolto psicologico. Sono questi alcuni contenuti di Speed, strategie di promozione dell'inclusione, il progetto di educazione per il contrasto alla povertà educativa, finanziato dall'Unione Europea, che unisce l'amministrazione comunale con gli assessorati alle politiche sociali e istruzione, al centro Newton, in collaborazione con quattro associazioni del territorio e i comprensivi scolastici cittadini. Nel corso di una conferenza stampa è stato fatto il primo punto sul lavoro, partito ad aprile, insieme a tutti i partner. Il progetto Speed è un progetto finanziato dall'Unione Europea per 700 mila euro, è l'unico progetto finanziato nella regione Abruzzo e coinvolgerà direttamente la città di Chieti, in particolar modo minori nella fascia d'età tra i 14 anni in condizioni di povertà educativa. La povertà educativa è una condizione che riguarda circa un milione di bambini in Italia, questo ci dicono le recenti statistiche, e si caratterizza per la difficoltà di accedere a servizi, attività, opportunità che possano garantire un pieno sviluppo delle competenze nell'età evolutiva. Un progetto che va incontro alle famiglie più bisognose, oltretutto completamente gratuito per le famiglie. Assolutamente sì, le attività sono tutte gratuite, verranno pianificate e realizzate attività psicoeducative, attività culturali, attività sportive, attività artistico-musicale, e coinvolgeranno enti della città di Chieti. Un progetto che è già partito da alcuni mesi, già si iniziano a vedere i primi risultati. Il progetto ufficialmente è stato inaugurato il 18 aprile 2024, abbiamo già proposto un campus estivo che ha riscosso un enorme successo e abbiamo attivato di recente nelle scuole attività educative, dopo scuola, tutoraggi individuali, laboratori ambientali, attività sportive, teatro-danza, con notevole risposta da parte delle famiglie. È importante ringraziare sia i coordinatori e sia le nostre dirigenti che si sono fatte carico di qualcosa di nobile perché promuovere l'inclusione con i bambini disabili e con difficoltà non è una sfida da poco, così l'assessore alla pubblica istruzione Teresa Giammarino. Per questo l'istituzione deve fare di tutto per creare unione con tutta la comunità scolastica. È un progetto che mira alla costruzione di un contesto adeguato a far crescere appunto i bambini tutti, in particolare i bambini che presentano delle situazioni svantaggiose, quindi i bambini che hanno difficoltà o che semplicemente attraversano dei momenti di difficoltà. Per questi bambini, per supportare questi bambini, quindi abbiamo pensato e crediamo fortemente che sia importante creare occasioni, occasioni formative, ma anche formare tutte le figure di riferimento che con i bambini a vario titolo passano, trascorrono il loro tempo.